Al plan le veniu presentare il candidato Ladin per l'alites di questo tono della Sud Tiroler Freiheit. Si tratta di Andreas Sozzas Darina. Andreas Sozzas ha 30 anni, all'Ida Darina e l'Aura di Scopaur sono lì cacciosa. Sui attenzioni si va portare alle tematiche che riverda la Ladinia in generale, mudando tutta l'agricoltura e il miglioramento dell'Aura di Paurs. Per Sozzas è la prima esperienza del mondo della politica. Per il candidato Ladin è fondamentale che c'è una soluzione per la problematica del Kèfer della Scopaur, al sia oda più collaborazione da antar turismo e agricoltura. Modena dott fosse l'agricoltura alla do di Sozzas, da smendrì la presenza dell'Urse e dell'Urse, in c'è da che con la smazorezza di protezione contro l'agricoltura per l'Urse, ne esogna n'arrova ai risultati, che si tratta. La pratica che non funziona, non funziona, è la soluzione che non funziona, è la soluzione che non funziona. Alla presentazione era l'Incetut per il candidato per l'orode di Presidente della Giunta Provinciale della Sittirolla Freiheit, Sven Knoll, che ha sottolineato l'importanza della un candidato Ladin sull'Irsta. Le slite provinciale sarai 22 di ottobre.